Ragazzi, come avrete saputo dal video di Stavefere, sono stati aggiunti i Funko Pop degli Youtuber all'interno della Big Vanilla. Piano piano, col tempo, ci saranno tanti piccoli aggiornamenti, piccoli o grandi che siano, che verranno aggiunti nella Big Vanilla. E io volevo unire un video che a voi piace un sacco, una mini serie che ho sempre portato all'interno della Big Vanilla, col fatto che appunto sono stati aggiunti questi mini Funko Pop degli Youtuber all'interno del mondo. Ragazzi, come sapete, ogni tre mesi noi facciamo il tour della Big Vanilla, per vedere gli aggiornamenti, per vedere appunto come sta crescendo il mondo, tutte quante le piccole novità, è un video che a voi è sempre piaciuto tantissimo. Quindi, benvenuti e bentornati in questo nuovo, anzi facciamo una cosa molto velocemente, in questo nuovo tour della Big Vanilla. Dal buon DeMarc è qua che vi parla ragazzi, lasciatemi un mi piace, è ritornato l'hashtag Minecraftita per essere salutati nei commenti. Per chi non lo sapesse ragazzi, basta commentare qua sotto con l'hashtag Minecraftita, essere iscritti al mio canale e sempre commentare, lasciare un mi piace al video e verrete salutati nel mio prossimo video. Quindi mi raccomando, un mi piace, iscriviti se ancora non è fatto e commentate con l'hashtag Minecraftita. Ma non solo, perché dovete decidere anche quale secondo voi è la Funko Pop più bella all'interno della Big Vanilla. Io oggi vi ho appena spacchettato la mia Funko Pop, però uniremo questo video col fatto che spacchetteremo tutte le Funko Pop degli YouTuber, le guarderemo tutte quante per bene e in più faremo il tour della Big Vanilla, perché è una cosa che a voi è sempre piaciuta tantissimo. Questa è la mia piccola statuina dello YouTuber ragazzi, guardate che bellina che è, è proprio bella, piccolina, fatta per bene, è proprio un mini DeMarc Big Generale in miniatura. Però dobbiamo fare una cosa molto importante, notate che ho solamente 5 razzetti, allora se non mi sbaglio, qua sotto dovrei aver nascosto dei razzetti dentro queste casse, infatti mi ricordo molto molto bene e ci riprendiamo qua tutti quanti. Poi ci prendiamo anche queste carote che ci serviranno sicuramente, qua abbiamo un bel set di armature che ogni tanto potrebbe servirci, in più io quasi quasi smisto un attimo le mie cose, anche se il lapis in realtà lo vorrei tenere e in più lascerei giù libri, diamanti, un pochino di lapis comunque lasciamo sempre giù e queste robe qua. Almeno siamo belli che tranquilli per fare questo tour della Big Vanilla. Beh, da dove poter iniziare? Allora, innanzitutto che è notte quindi devo andare a dormire, se no qua ci attaccano i mob. Ma sono un sacco curioso ragazzi perché vorrei vedere le Funko Pop di Kendal, di Marci e di Strefere, voglio proprio decidere quale in miniatura è la più bella di tutte quante. Allora, diciamo che è un po' anche in generale una specie di giudicare la skin degli YouTuber in miniatura, è anche questa qua la cosa bella. Però la cosa bella è anche cercare di vedere come è migliorato il mondo della Big Vanilla nel tempo. Se volete, qua in alto nelle schede, durante il video, vi faccio comparire i vecchi video dei tour che potete andare a vedere, potete andare a riprendervi, per appunto giudicare come e quanto è cambiato il mondo. Allora, io partirei da questa zona, dalla zona centrale della Big Vanilla. Negli ultimi tre mesi sicuramente sono arrivate le città degli animali degli YouTuber. Come vedete abbiamo la tartaruga, abbiamo la tigre di Kendal che ho visto ma veramente per poco 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 tempo. Abbiamo il panda, abbiamo il gatto, la zona Axelot di Buddy. Diciamo che qua, ragazzi, è una delle grandi novità dell'ultimo periodo. E per ogni YouTuber, appunto, quindi abbiamo anche una zona. Ormai la casa di Marci, ragazzi, la conosciamo veramente a memoria. Perché tra tutto quello che è successo con l'ignoto ultimamente e altre robe, abbiamo visto più casa di Marci tra un po' che la nostra. Però vediamo che bello... Che bello! No, ma ragazzi... Ok, non so se già la statuina di Marci è più bella della mia, però è bellissima! Allora, mi piace. Molto, 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 molto carina. Ovviamente la zona di Marci è un po' simile a come l'avevamo lasciato l'ultima volta nel tour. Diciamo che questa zona qua centrale è cambiata, ma non molto. Però ci sono stati tanti piccoli update, tanti piccoli aggiornamenti. Per esempio, abbiamo un osso qua volante, che non mi ricordo da chi è stato costruito. Abbiamo la zona di Buddy, che a quanto pare sono cresciute veramente tantissime liane in confronto all'ultima volta che sono passati qua. Questo alberone gigantesco prima non c'era, per esempio. Ok, molto interessante. Chissà dov'è la Funko Pop di Buddy. Vediamo dov'è. Eccola qua, la Funko Pop di Buddy. Carina? Ci sa, per ora però preferisco quella di Marci, se dovete giudicare, tra la mia e quella degli altri. Però molto, 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 molto carina. Poi abbiamo di qua la zona del villaggio. Questa qui non è stata mai intaccata. Anzi, solamente Marci ha ricostruito tutta quanta la zona del castello e l'ha anche quasi terminato. Molto, 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 molto carina. Nel tour, ragazzi, l'ultima volta non c'erano le case di Xiao e di Roby. C'erano, ma in realtà erano ancora in costruzione. Quindi, oggi andremo ad analizzare anche la loro zona. Perché, per esempio, qua abbiamo la bella casettina di Roby, in questa zona che è molto, molto bella, fatta in legno. E poi, subito a fianco, abbiamo la zona di Xiao, che è questa casa viola, con la torre qua e col vulcano gigantesco, enorme. Che ha anche questa torre qua di legno qua attorno, molto, molto carina. E un ingresso là dentro che è una specie di rifugio all'interno del vulcano, che ha anche questi letti fatti di viola. Ma qua è una zona, anche questa, molto, molto bella, perché hai una bella visuale su tutto quanto il castello di... Il castello di... Oddio, il vulcano. Cosa mi ha sparato? Ragazzi, ma che diamine è stato? Scusatemi, ma l'avete vista anche voi la Fireball che è partita? Ragazzi, è partita una Fireball da qualche parte. What? Qualcuno mi ha attaccato mentre stavo volando, eh? L'avete vista sicuramente anche voi. Vabbè, non ne voglio sapere, non ne voglio sapere nulla. Poi, proseguiamo. Andiamo di qua verso la zona di Steffera, ragazzi. In uno dei prossimi episodi faremo la Corona di Fere e la faremo partire esattamente al centro di questo Beacon qua, che alimenta un po' tutti quanti i poteri e gli effetti che abbiamo nella zona di Steffera. Infatti abbiamo Speed e Ace in questa zona qua. Però, vediamo un attimino come sono strutturate le loro statuine. Permesso, buongiorno, buongiorno. Oh là là, ma che belle! Queste qua sono delle mini... dei mini props molto, molto carini. Qua abbiamo... Ok, non sapevo se potesse fare una roba del genere. Cosa diamine è? Wow, ma è piena di life hacks, ragazzi, in questa zona qua di Steffera. Bellissima! Ma, ragazzi, questa zona qua non c'era tre mesi fa. Hanno fatto delle cose molto, molto belle. Wow! Complimenti a Steffera, ragazzi. Ne ha aumentato la bellezza della loro zona di un sacco. E poi queste sono le loro statuine. Ok, sarebbe stato leggendare, ragazzi, avere anche la Corona della Big Regina sulle testa di Fere. Sarebbe stato veramente bellissima. Però anche le loro skin in generale, le loro statuine sono veramente molto, molto belle. E poi, secondo me, è proprio difficile in generale dire quella più bella di quell'altra. Secondo me sono tutte quante veramente molto, ma molto belline. E psst, ragazzi, non ditelo a nessuno. Ma quanto sarebbe bello poter rubare delle statuine dei miei amici. Beh, io la butto in idea, ragazzi. Se volete che magari rubi qualche statuina, ditemelo a questo nei commenti il nome di chi è anche lasciato un bel mi piace. Perché 5.000 mi piace potrei rubare magari qualche statuina di qualche persona, eh. Poi, andiamo nella zona qua di Kendal. Anche se, in realtà, ragazzi, siamo passati dalla zona di Bella Faccia. E lui è uno di quelli che ha migliorato di più la sua zona negli ultimi tre mesi. Se notate, ragazzi, come vedete qua, ha messo un sacco di coltivazioni rosse. Quindi lui ha incentrato la sua zona molto sul rosso. Però, per esempio, ha fatto la zona del pollo, tutta quanta fatta d'oro. Ha catturato un pollo che si chiama Pino. Va bene, ragazzi, non giudico il nome. Perché a tutti quanti, tutti quanti dicono il loro nome come vogliono dei loro animali. Per esempio, io ho Coco, che a me è un nome che piace tantissimo per un animale. Però, ognuno, appunto, decide proprio. E lui, comunque, ha migliorato la sua zona sempre di più, come notate. Ha fatto tutta quanta questa roba qua rossa, con i funghi. Poi qua dentro cosa ha fatto? Ha fatto anche una mini farm. Di cos'è questa farm? Di altri funghi? No, vabbè, ragazzi, bellissima la farm di funghi di Bella Faccia. Ha fatto anche la super capra. Bellissima! Io non l'ho ancora incontrata, ragazzi, posso essere onesto. L'unica volta che l'ho incontrata è stata quando abbiamo fatto due scontri tra i regni. Che in quella zona della mesa ne sponavano veramente tante. Però, secondo me, anche col creeper gigantesco, che non c'era tre mesi fa, anche Bella Faccia ha fatto veramente un ottimo, bellissimo lavoro. Complimenti al nostro amico Bella Faccia. E la stessa stessa dov'è? Non l'ho ancora vista. Vediamo magari qua l'ingresso. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Eccola la stata di Bella Faccia. Il bel faccino minuscolo. Ok, bella. Mi piace, mi piace, mi piace anche la sua. Andrei da Kendall a questo punto. Perché ha quanto saputo, per esempio, l'Oco, l'ex big re oscuro. E vi ricordo che c'è qualche storiella ancora con l'Oco. Devo ancora capire se c'entra anche lui qualcosa con l'ignoto. A quanto mi stavi se stavi a fare ancora la stata non c'è. Però, per esempio, qua abbiamo la stata di Kendall. Molto, molto bellina anche la sua. Ci sta. Però, per esempio, la sua zona non è tanto migliorata a livello di upgrade e di costruzioni. Anche la zona di Kenoya, per esempio, è rimasta sempre col castello di ghiaccio. Di per sé, questa zona qui è rimasta molto, molto ferma. Secondo voi, ragazzi, dovremmo migliorare un pochino questa zona con qualche costruzione in più? Perché, per esempio, anche io sono rimasto super fermo per quanto riguarda la mia zona. Però, per esempio, ho costruito la statua nuova della testa di Fere. Che ci porta direttamente poi alla statua gigantesca della big regina. Se vi ricordate, ragazzi, guardate qua, a parte che noi sponiamo qua dentro questa cosa qua a me non piace per niente. Però, per esempio, possiamo togliere questa parte qua, uscire e mostrarvi la statua gigantesca della big regina. Che però, purtroppo, ha ancora tutta quanta la TNT sulla corona. Vuol dire che è a rischio esposizionamente all'altro. Però, se vi ricordate nello scorso video, quella TNT lì non si può togliere, ragazzi. Non si sa il motivo, ma purtroppo è indistruttibile. Quindi dobbiamo tenerla ancora lì, come se l'ignoto ci tenga un pochino in scacco per quanto riguarda la statua della big regina. Probabilmente perché Marcia ancora non ha raccolto i suoi oggetti. Vabbè, fa niente, ragazzi. Lo scopriremo più avanti, lo scopriremo più avanti. Comunque, questa qua è stata la big regina dove dentro ci si può anche abitare. E ci sono nascosti anche degli Axolot super rari all'interno del braccio sinistro di Fere. Molto, molto carini gli Axolot super, super rari. Sono una delle cose più belle che abbiamo mai fatto all'interno della Big Vanilla in generale. Poi la zona di Nico l'avete vista. E in più io ho upgradato la mia zona mettendo la mappa gigantesca della Big Vanilla. Che è questa qua. Questa qui praticamente racchiude tutto quanto quello che abbiamo fatto di enorme all'interno di questo mondo. Ed è sicuramente un lavorone incredibilmente epico. Qua abbiamo anche uno schettro che ci sta per dare fastidio. Dov'è? Qua intorno invece è stata tolta la vecchia piccola statua di Fere. Adesso abbiamo aggiunto un piccolo Campfire e un pezzettino di Leather. Molto, molto carini. Io vi farei anche il tour delle zone degli animali, del contest, della Big Regina. Però ragazzi diventerebbe un tour veramente immenso. Quindi secondo me non ne vale per niente la pena. Però ragazzi facciamo una roba. Ditemi voi qua sotto nei commenti secondo voi chi ha upgradato, chi ha migliorato di più la propria zona all'interno della Big Vanilla. Che lascerò un bel cuore a tutti quanti i ragazzi che mi faranno questo commento. Oltre che alle persone che scriveranno l'hashtag Minecraftita per essere salutati nei prossimi video. E noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video. Da Marco è tutto, iscrivetevi e attivate la campanile di nostre quanti notifiche. Ciao ciao!